Episodio 1. Pace nella Valley. Nelle vite dei protagonisti regna la pace. Il Cobra Kai viene smantellato e Daniel promette ad Amanda che al termine del Seikai Taikai si ritererà dal ruolo di Sensei. Siamo arrivati alla stagione finale di Cobra Kai. Il magazzino in cui Johnny si allenava con l'Egolfang è stato demolito, dunque bisogna trovare un'alternativa. Si recano al Miyagi-Do, che ora ospita alcuni studenti del Cobra Kai, tra cui Mitch e Tori. Samantha e Tori si allenano assieme e a quanto pare pace è fatta anche per le due coppie principali. Tuttavia c'è una diatriba in corso sul nome che dovrà avere il nuovo dojo. Così Chosen e Johnny combatteranno per decidere quale nome verrà usato al Seikai Taikai. Miguel e Robby portano le loro donne a un'uscita a quattro per aumentare l'affiatamento, ma sembra non funzionare. Tuttavia Robby incontra Kenny e i due iniziano a parlare. Dopo essersi incontrato con Daniel, Johnny riceve un messaggio da un numero sconosciuto che lo invita a incontrarsi al Coyote Creek. Firmato Cobra Kai non muore mai. Robby invita Kenny al Miyagi-Do, ma Sean lo intimida di stare lontano dal suo fratellino. Johnny giunge a Coyote Creek, sente la voce di Chris, ma scopre che in realtà è solo una registrazione riprodotta da Pastinaka che ha deciso di rifondare il Cobra Kai con i bambini degli elementari e, visti i dissapori con Daniel LaRusso, gli propone di riprendersi in mano il suo Cobra Kai. Al Golf & Stuff, mentre Kenny e Sean stanno giocando a baseball, si presentano Robby, Miguel, Sam e Tori e scoppia una rissa. Riluttante a colpire le ragazze, Kenny viene invitato nuovamente da Samantha ad unirsi al Miyagi-Do. Poi Sean e Kenny si allontanano. A casa Payne, Sean nota Kenny allenarsi in modo molto aggressivo e rabbioso. Avendo notato e apprezzato il fatto che i ragazzi del Miyagi-Do, nonostante la superiorità numerica, abbiano deciso di non fare a botte, Sean incoraggia suo fratello ad entrare nel Miyagi-Do, così da diventare un atleta capace di controllare la sua rabbia. Mentre Daniel e Chosen riflettono sul fatto che il nome del dojo non è poi così importante, Johnny gli comunica la sua decisione di mantenere il nome del dojo Miyagi-Do e i sensei si riconciliano. Tuttavia Johnny e Chosen vogliono comunque combattere, ma senza alcun risentimento. Kenny si unisce al Miyagi-Do e viene accolto da Robby, Miguel e Anthony. Il logo del dojo ora presenta un'aquila che vola sopra il bonsai, come omaggio all'igolfang e a Johnny. Di sera, in Corea del Sud, Chris entra in una radura della foresta dove un gruppo di studenti del Tang Soo Do si sta allenando. Il Cobra Kai è tornato. E se vuoi vedere il Cobra Kai tornare più spesso nel tuo feed, iscriviti al canale. Io sono Nick e benvenuto al riassunto della sesta stagione di Cobra Kai. Episodio 2. Il premio. In un flashback, John Chris e Terry Silver si preparano per lasciare il dojo di Kim Soon-Yung, ma Chris, prima di andare, vuole salutare una giovane Kim Jae-On. Vedendo questo, il sensei le alza le mani contro e John Chris si mette in mezzo per difenderla, un gesto che rimarrà impresso nella piccola Kim. Nel presente, Chris si riunisce a Kim Jae-On, felice di rivedere la sua vecchia amica. Mentre Miguel finisce di scrivere la sua lettera di candidatura per l'Università di Stanford, il soffitto esplode rendendo l'appartamento invivibile. La famiglia si trasferisce dunque a casa di Johnny, ma l'appartamento sembra troppo piccolo per ospitare 6 persone, ovvero 5 più il futuro nascituro. Chris si scusa con Kim per non essere stato al suo fianco dopo che Terry Silver aveva preso il controllo del Cobra Kai e lei afferma di essere stata cecata dalla sua promessa di portare il karate di suo nonno nel mondo. La speranza tuttavia è ancora viva, soprattutto se riusciranno a vincere il Seikai Tai Kai. Poi Kim conduce Chris dentro una capanna, dove rimane sbalordito nel trovare il maestro Kim Sun-Yung ancora vivo e vegeto. Durante gli Open Day delle Università, Dimitri e Falco hanno già le idee chiare. Andranno al Meet, proprio come avevano già deciso da piccoli. Intanto Johnny e Chozen si accordano per intraprendere assieme dei tour per affittare una nuova casa. Kim Sun-Yung decide di dare a Chris la possibilità di dimostrare il suo valore come Sensei con l'opportunità di trasformare il suo dojo nel nuovo Cobra Kai e di partecipare dunque al Seikai Tai Kai. Miguel, Dimitri e Falco continuano i loro tour delle scuole e visitano il campus del College of the Valley. La loro guida viene però travolta da Bracks, accompagnato da Kyler, che sta clamorosamente frequentando quel college. Kyler poi li invita a trascorrere del tempo insieme. Nel frattempo Johnny e Chozen partecipano alla loro prima giornata di visite per trovare casa. Johnny non perde tempo a offendere l'agente immobiliare dopo che questo lo aveva definito poco stabile. Ma Johnny non si dà per vinto. Sensei Kim racconta che da ragazzo fuggì per evitare di essere arruolato nell'esercito e si rifugiò in una grotta. Quando gli invasori lo trovarono uccise una dozzina di uomini usando il coltello di suo padre che in seguito perse. Quindi invia Chris in una missione per recuperarlo. In cambio acconsentirà a far entrare il suo dojo nel Seikai Tai Kai. Chris si reca dunque nella grotta e individua il coltello, ma si ritrova di fronte a un cobra. In perterrito Chris tenta di afferrare l'arma, ma il serpente lo morde al polso e il veleno inizia a fare effetto. Alla festa del campus Kyler si rivela essere una recluta della confraternita che viene bullizzata. Nella casa successiva Johnny e Chozen trovano lo stesso agente immobiliare che li invita ad andarsene. Johnny fa dietro front ma viene richiamato dal proprietario, un fan di nome Stevie che lo ricorda dal torneo All Valley del 1983. Johnny sfrutta la cosa per chiedere di affittare la casa e Stevie risponde. Che ne sarebbe onorato? Chris ha delle allucinazioni dove viene deriso da un giovane Terry Silver che lo accusa di essere stato la sua debolezza e lo avverte che a sua volta la debolezza di Chris è Johnny Lawrence che appare nella caverna con il suo vecchio G del Cobra Kai. Chris combatte contro l'ologramma del suo ex studente e lo sconfigge con ferocia. Dopodiché riprende conoscenza, pronto per portare a termine la sua missione. Alla festa Zenker costringe Kyler ad aspirare con la bocca la spazzatura. Miguel si mette in mezzo e Zenker afferma che Kyler non verrà mai ammesso nella confraternita. Il ragazzo reagisce umiliando il suo bullo e innescando una rissa che vede i karateki avere la meglio. Successivamente, con la diffusione della notizia della rissa del campus, Kyler viene invitata a unirsi a una confraternita più prestigiosa. Johnny si presenta alla concessionaria in giacca e cravatta, avendo malinterpretato un consiglio di Daniel come una proposta di lavoro. Mentre Daniel e Amanda discutono sul da farsi, il campanellino suona. Johnny ha già venduto la sua prima auto, costringendo Daniel ad assumerlo a malincuore. Chris porge al vecchio sensei il coltello perso insieme alla testa mozzata del cobra. Il maestro Kim, sorpreso, dichiara che ora sono pronti per il saikai, taikai. Il cobra kai è tornato. Di nuovo. Episodio 3. Pijama party. Nel bel mezzo dei preparativi del gender reveal, qualcuno bussa alla porta e lascia uno strano pacco che sta ticchettando. Il pacco esplode. Johnny entra con una macchia rosa sulla maglietta. Carmen aspetta una femmina. Kim Daon presenta crisi agli studenti, le cui abilità, a detta sua, superano di gran lunga quelle degli studenti americani. Indica in particolare Yoon Dojin, la cui famiglia si è allenata al dojang per generazioni. Il ragazzo si cimenta in un'esecuzione impeccabile del colpo della vipera. Indossa una toppa speciale che lo identifica come il miglior studente del dojo. Al contrario, Kwon Jaisung è un giovane impetuoso che ignora le istruzioni e crea mosse spettacolari ma non apprezzate dai sensei. Incaricato di far emergere il meglio dei suoi studenti, Kris consiglia a Kim di lasciare Kwon a lui. Sam e Tori tentano goffamente di combattere, ma sono riluttanti a farlo dato il loro recente passato e Devon nutre qualche dubbio sulle compagne. Con la sua partecipazione, Johnny escogita dunque un piano per far scattare la scintilla tra le due. Daniel sistema i vecchi averi di Mr. Miyagi in quanto Chosen si trasferirà temporaneamente nella sua vecchia stanza. I due spostano il letto e scoprono una botola che rivela al suo interno un misterioso forziere. Durante la sua prima lezione, Kris chiede agli studenti come fare per sconfiggere qualcuno che ha più cuore. Yoon risponde dicendo che bisogna avere ancora più cuore e Kwon interviene affermando di distruggere il cuore a calci. Kris si avvicina a Kwon promettendogli una punizione che lo aiuterà a prendere sul serio il nuovo sensei. Samantha e Tori arrivano a casa di Devon Lee, dove Johnny le accoglie ad un pigiama party ideato proprio da lui ed Devon. Johnny è convinto che questo tipo di incontri siano spesso pieni di drama e conta sui pettegolezzi delle ragazze per creare di nuovo ostelità tra le due. Daniel, Amanda e Chosen aprono il forziere di Mr. Miyagi e trovano una curiosa collezione di oggetti, tra cui un paio di guantoni da box, una moneta cinese, delle pergamene e un articolo di giornale del 1947 riguardante un'aggressione e una rapina commesse da un certo Keizuke Miyagi. Daniel identifica la foto di Miyagi in un vecchio passaporto, sebbene riportata con una data di nascita diversa. Notando l'indirizzo sul passaporto, Amanda propone di fare una visita in cerca di risposte. Per colpa di Kwon, Chris impartisce una punizione all'intera classe. Mentre trasporta pesanti sacchi di juta su e giù per i gardini, un frustrato Yon si lamenta vividamente con Kwon, che risponde a tono scatenando una collutazione che porta Chris a sospendere l'allenamento. Al pigiama party, tra trattamenti per il viso e guerre di cuscini, Johnny cerca in tutti i modi di far litigare Sam e Tori, ma in vano. E la loro rivalità sembra sempre di più un lontano ricordo. Daniel, Amanda e Chosen arrivano all'indirizzo riportato sul passaporto in cui sorge una palestra di box in attività dagli anni 40. Quando Daniel mostra il passaporto a un uomo, il proprietario lo scambia per un poliziotto e scappa dalla porta sul retro. Chosen si lancia all'inseguimento e riesce a immobilizzarlo. Daniel gli mostra dunque il passaporto e l'uomo riconosce immediatamente Miyagi. Sam riceve una chiamata da Robby e Tori un messaggio da Miguel, che porta entrambe a realizzare che Johnny ha rubato i telefoni dei due ragazzi per farle litigare. Sam e Tori se ne vanno e aspettano l'arrivo di un Uber. Di notte, Kwon va da Chris e lo accusa di aver messo gli altri studenti contro di lui. Chris elogia la sua abilità e gli dice che potrebbe essere il combattente più temuto del Seikai Taikai esortandolo a trasformare la sua rabbia in un'arma. Kwon va a combattere con Yon e altri due studenti, sconfiggendoli con facilità e strappa la toppa di Yon dal suo G. Il proprietario della palestra racconta che Mr. Miyagi e suo nonno erano amici e che la palestra era stata messa in piedi grazie al supporto di Miyagi. Quando Daniel chiede perché avrebbe usato un falso nome e la palestra come indirizzo di casa, l'uomo ipotizza che Miyagi potrebbe aver avuto qualcosa da nascondere, citando proprio la rapina in cui Miyagi sarebbe stato coinvolto. Sebbene Daniel sia sbalordito da questa nuova rivelazione, l'uomo cerca di confortarlo, assicurandogli che, sebbene Miyagi possa aver commesso degli errori in passato, era comunque un brav'uomo su cui suo nonno aveva fatto grande affidamento. Tori accende la scintilla contro Samantha, accusandola di averle rubato in passato il fidanzato. Sam ammette di essere stata ubriaca la notte in cui ha baciato Miguel e di aver commesso un grosso errore e le due iniziano a discutere. Tori accusa Sam di essere l'artefice del loro conflitto e Sam ammette di aver avuto molte colpe e si scusa. Tra l'altro, piccola pausa, avevo fatto proprio un video tantissimi anni fa su questa cosa che Sam aveva la colpa in tutto e la teoria ve la lascio qui nelle schede perché è stata profetica, andatela a vedere perché può essere davvero molto interessante. Riprendiamo con l'alite. A sua volta, Tori si scusa per aver istigato la rissa a scuola, poi le due ragazze si abbracciano mettendo da parte la loro rivalità. John ed Evon realizzano che la loro riconciliazione potrebbe forse essere in realtà la cosa migliore. Daniel è affranto dal fatto che Miyagi gli abbia tenuto nascosti dei segreti. Amanda lo consola ragionando sul fatto che non sempre si devono rivelare gli altri dettagli del proprio passato e che tutti in passato possono aver sbagliato. La cosa importante è chi si è nel presente. Chris spiega agli studenti che l'unico modo per battere un avversario con tanto cuore è essere senza cuore e li incoraggia a sfruttare il loro odio. Mentre Quan con la nuova top addosso riscalda la classe, Chris afferma che manca ancora un pezzo del puzzle. Finalmente Samantha e Tori si affrontano sul ponte di allenamento con il vigore di una volta. Poi inizia la diretta con l'annuncio di Gunther. Il Seikai Taikai si terrà a Barcellona. Tuttavia ogni dojo sarà limitato a soli sei membri, di cui un capitano uomo e una donna. Il che significa che non tutti saranno ammessi. Episodio 4. Gli sfavoriti. Tra gli allievi del Miyagi-Do si accende la competizione, soprattutto tra Kenny e Anthony. Johnny e Daniel iniziano a pensare ai sei studenti da portare a Barcellona ma si rendono conto che ognuno ha le sue preferenze. Viene però trovata la soluzione. Il Sensei Mike Barnes selezionerà i sei karateki principali dall'alto della sua esperienza in grossi tornei e soprattutto dalla sua imparzialità. Nella prima parte della selezione li sottopone ad una serie di sfide fisiche, valutandoli sulla base di velocità, forza, resistenza e cooperazione. Kenny dimostra la sua velocità catturando un pollo e Miguel e Robby ricevono voti alti nel lavoro di squadra. Devon è l'ultima a rimanere in piedi nella sfida di resistenza, ma Barnes sembra non apprezzarla. Al termine della prima schermatura, Barnes restringe il campo a 12 studenti della classe. Falco, Robby, Miguel, Samantha, Tori, Mitch, Kenny, Nate, Chris, Dimitri, Devon e Anthony. I combattenti del mia guidò si allenano fino a tarda notte. Quando si fermano Anthony nota a Mitch che mescola della polvere lassativa nella sua borraccia in quanto soffre di stitichezza a causa dello stress per il torneo. Nelle vicinanze Devon lavora furiosamente al sacco. Il giorno dopo al dojo Falco rivela a Dimitri che non ha fatto domanda per il myth, lasciando deluso il suo vecchio amico. Nella seconda selezione, gli studenti dovranno combattere per catturare quante più bandiere possibile dai loro compagni barra rivali. Coloro che perderanno le proprie bandiere saranno eliminati e coloro che avranno più bandiere dopo due minuti andranno a Barcellona. Durante il round, Johnny fa continue pressioni su Mike Barnes affinché abbia un occhio di riguardo in più su Devon, ma questo porta i sensei a scontrarsi, non permettendo tra l'altro a Mike di notare la stessa Devon Lee mentre ruba abilmente una bandiera a Falco. Anthony riesce a strappare diverse bandiere e si trova davanti Kenny. A tempo quasi scaduto, Kenny strappa una bandiera ad Anthony, poi gli sfera un potente colpo sul viso e lo atterra violentemente. Mike Barnes annuncia che Anthony è eliminato, suscitando l'ira di Daniel. Poi Mike fa la conta delle bandiere conquistate. Tori, Robby, Samantha e Miguel sono i primi quattro. Guarda che sorpresa. Gli ultimi quattro sono in parità e Mike deciderà al giorno successivo chi saranno i due che partiranno per Barcellona. Quella sera Johnny fa visita a Mike Barnes nella sua nuova falegnameria. Mike informa Johnny che Devon non è passata e tra i due parte una serie di provocazioni che sforci in una lotta che vede Johnny avere la meglio. I due poi iniziano a parlare amichevolmente e si lasciano con una promessa. Mike giudicherà Devon in modo equo. Al mattino Barnes raduna il Dodge in un bosco. Ha ideato un esercizio nascondendo due bandiere in mezzo alla foresta. I due allievi che le recupereranno andranno a Barcellona. Nel caso invece in cui due di loro trovino la stessa bandiera contemporaneamente dovranno combattere per conquistarla e quindi partire per Barcellona. Intanto Falco confessa a Dimitri di non aver fatto domanda per il Meet e questo inizia a insultarlo accusandolo di star rovinando il loro sogno di infanzia. L'amicizia tra i due sembra al capolinea. Mike Barnes dà il via alla sfida finale. Dopo che i concorrenti partono Mitch nota che i suoi lassativi sono spariti. Dopo poco Kenny si piega dal mal di pancia e torna al punto di partenza. Tutti credono che abbia vinto ma il ragazzo invece si dirige dritto verso il bagno e se la fa addosso davanti a tutti prima di entrare. Poco dopo Devon fa ritorno con una bandiera assicurandosi così un posto nel Seikai Taikai. Falco trova l'altra bandiera e Dimitri lo sfida. Nel tira e molla Falco ha la meglio e fa cadere Dimitri a terra. Sentendosi in colpa Falco lo aiuta a rialzarsi ma Dimitri sfera un calcio al suo ex amico facendolo cadere contro un masso. Dimitri raccoglie la bandiera e torna alla base diventando il sesto membro del miaghi-do. Mentre Kenny se ne va Devon sfila fuori dalla borsa il barattolo di lassativi di Mitch e lo butta nella spazzatura. Episodio 5. I migliori dei migliori. Un medico informa Tori che il cancro di sua madre potrebbe essere in regressione. Nel parcheggio Tori viene avvicinata da Chris che la invita a seguirla nel suo nuovo dojo. Tori rifiuta e Chris nota il suo ghi del miaghi-do in borsa e afferma che lì sarà solo la seconda scelta dietro Samantha. Chris cerca di fare gioco sull'ego di Tori ma lei se ne va. La ragazza racconta a Robby dell'accaduto promettendogli però di non farne voce a nessuno. Daniel e Johnny radunano gli studenti per determinare il capitano maschile e quello femminile. Decidono che Miguel combatterà contro Robby e Samantha con Tori. Johnny li convoca per delle sessioni di allenamento che prevedono metodi alla sua come schivare bottiglie di birra, esercitarsi con dei manichini con le bandiere degli altri stati e guardare vecchi film di arti marziali. L'avranno guardato Karate Kid? Miguel torna a casa e informa la famiglia che non è stato preso alla Stanford. Ma Carmen lo rassicura, convinta che verrà comunque preso. Per il ragazzo quella del Seikai Tai Kai non è l'unica preoccupazione. Tori arriva a casa e nota che il cibo è ancora sul fornello e sta bruciando. Poi nel corridoio vede sua madre morta stesa nel pavimento con una mano chiusa a pugno. Mentre Daniel lascia la concessionaria per andare al dojo si crea attrito con Johnny che vorrebbe essere anche lui presente all'allenamento. In ospedale a Tori viene detto che sua madre è morta per un'embolia polmonare a causa di un coagulo di sangue non rivelato e si fa prendere dalla rabbia. Invece di insegnare al dojo Daniel porta Miguel e Samantha a una sessione di allenamento nei boschi. In quel momento Johnny sta facendo un test drive con un cliente e per caso passano vicino alla foresta dove Daniel ha portato i ragazzi. Appena nota l'auto Johnny afferra il volante e ferma l'auto. Al che il cliente sconcertato li raggiunge e Daniel infuriato ordina a Johnny di andare via e riportare il cliente alla concessionaria. Alla larusso auto Johnny annuncia che aprirà la sua concessionaria e invita tutti ad andare con lui. Amanda lo convoca immediatamente nel suo ufficio e gli racconta che Daniel non è più se stesso da quando ha trovato lo scrigno di Mr. Miyagi. Robby aspetta Tori per allenarsi ma le sue chiamate rimangono senza risposta. Tori è a casa in lutto per la morte della madre mentre tiene in mano un tappo di plastica un regalo che aveva fatto alla madre durante la sua infanzia che rappresentava una promessa che le due si erano fatte ovvero di riuscire a diventare indipendenti ma a quanto pare i piani sono stati distrutti. Iniziano le sfide. Nella lotta dei ragazzi Miguel va in vantaggio per 2 a 0. Tuttavia quando Tori arriva Robby si fa forza e mette a segno 3 punti che lo portano alla vittoria. Robby sarà il capitano maschile al Seikai Taikai. Inizia la gara femminile. Sull'1 a 1 spinta dalla rabbia Tori sferra un calcio illegale. Poi Amanda riceve una chiamata dall'ospedale e Tori diventa sempre più aggressiva. Terminata la chiamata Amanda supplica di fermare il combattimento e Tori rivela a tutti la morte di sua madre insistendo per continuare a combattere. Daniel sottolinea che Tori non è in condizione di combattere e la ragazza riflettendo sulle parole di Chris sostiene che Daniel sia iper protettivo nei confronti di Samantha e userà qualsiasi scusa per far morirla. Quindi farla diventare il capitano. Poi Tori abbandona furiosamente il dojo. Successivamente Falco viene nominato sesto membro della squadra al suo posto chiaramente. Mentre Samantha diventa il capitano delle ragazze. Johnny rimprovera Daniel. Crede che il combattimento avrebbe aiutato Tori, proprio come anche lui in passato quando morì sua madre e voleva solo sfogare le sue emozioni. Daniel afferma che il Miyagi-Do è contrario al combattimento con rabbia e Johnny contromatte sbattendo in faccia i segreti del maestro Miyagi e Daniel lo colpisce sul volto. Johnny pietrificato dichiara che la loro collaborazione dopo il torneo finirà. Robby e Samantha ricevono le fasce da capitano delle Seikai Tai Kai. Quando Daniel sta mettendo la fascia a Samantha si ferma e si precipita sullo schregno del maestro Miyagi. Prende in mano la fascia macchiata di sangue che è uguale a quella che hanno ricevuto i ragazzi. Anche Miyagi in passato aveva partecipato al Seikai Tai Kai. A Barcellona i concorrenti arrivano all'arena nel Seikai Tai Kai. Quando il nuovo Cobra Kai fa il suo ingresso i Miyagi-Do sono sconvolti nel vedere Kris affiancato da Kim Jaun e lo sono ancora di più quando appare Tori al loro fianco. Termina così la prima parte della sesta stagione di Cobra Kai. Su questo canale trovi tantissimi contenuti su Cobra Kai e su tante altre serie tv quindi iscriviti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.